Buongiorno e ben ritrovati al TG Approfondimenti. Ancora tre giorni e scade il termine per iscriversi con tariffa agevolata alla decima edizione della Pacific Steel Conference che si terrà a Singapore dall'8 all'11 ottobre 2013 presso il resort World Sentosa. Tariffe speciali anche per gli studenti. I temi principali della conferenza saranno buckling e analisi di stabilità, analisi e design delle strutture in acciaio, fabbricati e ponti in multistoria, acciai innovativi e materiali compositi e relativo utilizzo in costruzione, giunti ed elementi di congiunzione, fatica e frattura, strutture saldate, prove e strumentazioni. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.pccc2013.org oppure scrivere alla mail che trovate in sovraimpressione. Obiettivo sulle attività della società IES Progress. Analidi dei circuiti stampati mediante microscopio elettronico a scansione. Ce ne parla Roberta Moglia, IES Progress. Buongiorno. I circuiti stampati costituiscono i supporti meccanici sui quali vengono montati i componenti per la realizzazione di schede elettroniche. Negli ultimi decenni le tecnologie di riproduzione dei circuiti stampati hanno dovuto evolversi al fine di soddisfare le numerose esigenze di utenza e di mercato. Con la conseguenza che anche i materiali utilizzati per la produzione dei circuiti stampati hanno dovuto modificarsi al fine di soddisfare i necessari standard di qualità di affidabilità richiesti. La necessità di produrre manufatti sempre più complessi però ha indirettamente generato nuove tipologie di difetti, oggetto di studio della failure analysis di schede elettroniche. Per coloro che hanno la necessità di migliorare continuamente i processi di produzione è di fondamentale importanza individuare le eventuali debolezze che possono manifestarsi in fase di collaudo o peggio durante l'utilizzo dei prodotti finiti. L'etame microscopio elettronica scansione permette, rispetto al tradizionale esame eseguito al microscopio ottico, di ottenere un più ampio spettro di informazione, tra cui ad esempio l'analisi chimica di aria e di dimensioni microscopiche, molto sfruttata nel caso dell'analisi delle finture superficiali. L'analisi morfologica inoltre offre la possibilità di individuare la presenza di possibili difetosità, non evidenziabili se non ad elevati ingrandimenti. Missione negli Stati Uniti nei settori dell'alta tecnologia, dal 4 all'8 novembre 2013. Ricordiamo che la missione è principalmente rivolta alle imprese, nonché a partner tecnologici, che le stesse imprese vorranno coinvolgere, che intendono presentarsi e proporsi sul mercato americano con prodotti, servizi, tecnologia e progetti altamente innovativi nei seguenti settori. Aerospazio, bio e nano industrie, ICT, robotica e manifatturiero avanzato. Per ulteriori informazioni potete consultare direttamente il sito ufficiale di Confindustria. Il 4 luglio, presso la sede IS di Genova, si è tenuto il seminario dal titolo Metodi di calibrazione con blocchi campione per esame UT, confronto tra codici ASME e NORME e N. Il corso è stato tenuto dal signor Luca Verzura, IS Progress. Questa era l'ultima notizia dell'edizione del Tg di oggi. Auguriamo tutti un buon fine settimana e vi diamo appuntamento a venerdì prossimo. Grazie.